Ciao, 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 buonasera a tutti. Ti puoi sedere a sinistra, non so se te l'hanno dietro, perché ti piace Tina? Tutto il filmato, ammazza che bello, ammazza che bello. Loro sono proprio i tipici tronisti, ma perché hanno proprio la faccia da tronisti, sai, non so, negli ultimi anni sono sempre quelle con la barba, loro proprio, dove ti giri, ti giri bene qua, ti giro a sinistra e vedo il sole, di qua vedo il mare. Non siete a posto, grazie. Allora, l'unica cosa c'è da tenere a bada Roberta, perché non lo so che pensieri sta facendo. Nessuno, nessun pensiero. No, certo. Buonissimi ragazzi, complimenti, però nessun pensiero strano.